Il problema non potrà che aumentare con l'inalzarsi dell'aspettativa di vita. Più anziani nella nostra società, più persone affette da decadimento cognitivo perché le malattie neurodegenerative come l'Alzheimer e le altre forme di demenza aumentano la propria incidenza con l'avanzare dell'età. Serve organizzarsi e prepararsi a gestire questa dolorosa eventualità, saper cogliere i primi sintomi nel familiare che ne è colpito. Ma soprattutto alle famiglie serve non sentirsi sole, trovare un sostegno. È la sfida del presente e del futuro. Se ne è discusso a Morbegno davanti a un centinaio di persone a riprova del grande interesse che suscita il tema in una conferenza promossa da Casa di Cura Ambrosiana, realtà presente in Valtellina con la RSA, la nuova colonia di Roncaglia di Civo e il centro clinico valtellinese a Morbegno. La dignità e il rispetto della persona, anche quando è indebolita dagli anni e dalle malattie, sono il nostro riferimento, ha detto la direttrice generale Carla Dotti nell'aprire i lavori, cui sono intervenuti specialisti di vario ambito per parlare di Alzheimer, fattori di rischio, diagnosi, terapie. Abbiamo parlato delle problematiche nella gestione, nella diagnosi precoce e nella gestione dei disturbi del comportamento sia a livello domiciliare che in ambito residenziale. Abbiamo inoltre presentato il nostro nuovo nucleo protetto, è un nucleo che è composto da 20 posti letto, questi 20 posti letto sono dedicati a persone con diagnosi di demenza e disturbi del comportamento, quindi persone che non possono essere più gestiti a livello domiciliare e che trovano nel nucleo delle risposte di tipo assistenziale e di tipo sanitario. Con metodi, con soluzioni anche innovativi nella gestione e nella cura di queste persone. Sì, infatti abbiamo presentato il nostro nucleo che utilizza la metodologia Gentle Care, che utilizza tra le terapie non farmacologiche la pet therapy e la doll therapy. Inoltre abbiamo in programma l'apertura di una stanza multisensoriale e di un giardino protetto circolare.